Per il Chieti quella di domenica sarà una tappa fondamentale per dare una sterzata al campionato. La formazione di Lucarelli dopo il pareggio casalingo contro il Tolentino sarà di scena a Pietramelara contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. La vittoria è alla portata della formazione nero-verde che in trasferta finora ha un rendimento da squadra di vertice. Diverso invece è quello dell'Angelini dove la squadra non ha mai vinto e questo preoccupa il patron Trevisan. È chiaro che non concretizziamo le occasioni e c'è qualcosa da rivedere anche secondo me a livello di gioco perché insomma lasciamo troppo il controllo e la palla agli avversari ma penso che il mister questa settimana lavorerà per migliorare anche l'assetto complesso della squadra. Devo dire comunque una buona partita, non mi posso lamentare. Nei giorni scorsi è arrivato a rinforzare la squadra l'attaccante classe 1990 Luca Orlando proveniente dall'FC Messina con la società che sempre per il reparto avanzato sta provando a portare in nero-verde l'attaccante ex notaresco Ezequiel Banegas. I maggiori problemi Lucarelli che gode della fiducia della società li ha però in difesa dove nelle ultime ore è sfumato l'arrivo di Emanuele Allegra dalla Cinzia al Balonga. Sia il mister che il direttore sportivo in questo momento devono essere lasciati sereni di lavorare, a lavorare e quindi comunque la voce della società sarà la mia fino ad oggi o quella del presidente Mergiotti perché parleremo noi quei giorni. Lucarelli deve solo lavorare, deve essere sereno, deve andare avanti per il lavoro che sta facendo e assolutamente andiamo avanti così anche perché comunque le ultime due partite una vittoria fuori casa e un pareggio oggi a Chieti comunque sono risultati che meritano considerazione e rispetto ai confronti del mister.